Viniardì 17 novembre 2017 presso la Fondazione Riccardo Catella di Milano ha avuto luogo il convegno strumenti e tecnologie innovativi per l'edilizia convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con lo studio Stefano Boeri Architetti e Coima Image. Al centro del convegno al quale hanno partecipato più di 200 architetti il Bosco Verticale la sfida della nuova architettura. Il convegno è stato organizzato anche grazie alla partecipazione delle numerose aziende che hanno collaborato alla progettazione e realizzazione dell'innovativo edificio. Noi abbiamo fatto la fornitura di uno scalda salvietti decorativo per i bagni si tratta del modello Wright in versione cromata, tutto interamente prodotto all'interno dei nostri stabilimenti e ci siamo occupati di seguire il General Contractor e lo studio di progettazione sin dalla fase della scelta sino al momento della consegna e poco prima dell'installazione. Aver potuto far parte di questo gruppo di lavoro, perché alla fine è un gruppo di lavoro che ha portato avanti un progetto così straordinario, significa anche essere stati selezionati per la serietà, per l'affidabilità e per la qualità. E quindi è qualcosa che stiamo cercando di valorizzare ed ecco perché con piacere partecipiamo ad un evento come questo.